Ciao, sono Greta, ho 23 anni e vengo da Palermo, ho deciso di vendere un uomo per cercare un uomo che sia bello, ricco, fedele, no come questi qua. Io sono una ragazza allegra, sono un'attrice emergente, mi potete vedere in Palermo scuola antimafia, nella quinta puntata. Questo è il mio posto dove sono nato, potete vedere, guarda là, quella è la mia casa. Tue preferenze sessuali? Qualsiasi.